Buona serata cari amici, ben ritrovati, siamo proprio nell'immediata vigilia della Supercoppa Europea Chelsea Villarreal, il calcio d'inizio ufficiale della stagione europea, anche se come ci dicevamo stamattina comunque ci sono i preliminari delle varie competizioni e il calcio si sta giocando anche in altre parti del continente, la notte scorsa mi sono divertito abbastanza a commentare San Paolo Palmeiras che è finita 1-1, quarti di finale di Coppa Libertadores, tanti argomenti ci sono però se parliamo di vigilia comincia ad approssimarsi anche la vigilia dell'avvio del campionato di Serie A e come ci dicevamo stamattina nel video che ho voluto dedicare all'Inter, alle sue possibili prospettive, ai problemi logici che ha e a tutte le soluzioni che potrebbero paventarsi di fronte a Simone Inzaghi, la mia impressione è che la maggior parte dei club di Serie A siano abbastanza in ritardo sulla tabella di marcia, nel senso che fin qui le modifiche sono state tante, sono state sostanziali e hanno riguardato specialmente gli allenatori, quando si cambia un allenatore vuol dire che il progetto viene rivisto, viene rilanciato, viene riformulato e quindi mi aspettavo parallelamente anche degli interventi un pochino più strutturali sulle varie rose, cosa che non è avvenuta ovunque quindi io credo che ci sia bisogno di fare parecchio e di fare parecchio anche in tempi brevi, per cui adesso vi voglio parlare della Juventus, Juventus che ovviamente è attesa una stagione di rilancio perché è vero che poi sulla stagione scorsa forse sono stati usati in certi casi dei toni un po' troppo forti, la Juventus sì, ha strappato il quarto posto, la qualificazione alla Champions League proprio in extremis e anche con demeriti del Napoli che se avesse battuto l'Ellas Verona l'avrebbe lasciata fuori, in Champions League ha fatto un altro flop però comunque ha vinto due trofei, la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, quindi è una stagione diciamo non di ridimensionamento ma una stagione di transizione, questo potrebbe essere il giudizio lucido sugli affari juventini, però dopo questa stagione diciamo che la sterzata, il messaggio da parte della proprietà della Juventus è stato piuttosto netto perché dopo l'addio di Allegri di due anni fa la scommessa era forte, la scommessa era ardita, Juventus ci dichiarava risolvendo il proprio rapporto con Allegri e puntando prima su Sarri e poi su Andrea Pirlo di aver individuato le cause del mancato successo, della mancata emersione totale in ambito internazionale in temi di gioco, perché la squadra non è stata cambiata più di tanto se non con innesti diciamo così non assolutamente di secondo piano ma innesti collaterali, si è andati su due allenatori che dovevano portare dei progetti di gioco, delle dinamiche calcistiche differenti, Sarri ha vinto lo scudetto, è andato fuori con Lione nella Champions League più strana della storia e non è stato confermato, Pirlo doveva essere una grande scommessa, una scommessa che evidentemente non è stata ritenuta vincente altrimenti sarebbe ancora sulla panchina juventina, quindi la Juventus dopo questi due anni in cui le cose non sono andate come da provvisione, credo che questo si possa dire senza timore di essere smentiti, cosa ci dice? che il problema era l'allenatore perché ritorna Massimiliano Allegri e quindi la proprietà fa qualche passo indietro in questo senso, ce lo dice probabilmente effettivamente, anche se poi un altro addio importante nella Juventus di quest'estate è stato quello di Paratici che è andato al Tottenham e quindi anche a livello di progettazione è evidente che insomma si siano volute prendere delle strade differenti, quindi alla Juventus torna Max Allegri e Max Allegri indubbiamente in questo biennio sabbatico ha sviluppato dei pensieri, è un ritorno molto importante, credo che in questa fase del calcio italiano e della Juventus Allegri sia una figura di primissimo livello per poter guidare la squadra e per poter progettare la stagione però poi il ragionamento che voglio fare con voi riguarda proprio la squadra della Juve perché questa situazione con una squadra che praticamente non ha avuto innesti se non un colpo che viene definito di prospettiva ma che per me può essere anche per l'immediato come Caio Giorgio credo un'operazione veramente straordinaria da parte della Juventus per le cifre, per il valore del giocatore, per le possibilità tecniche che offre però al di là di questo la Juventus in questo momento è ancora quella che Sarri aveva definito inallenabile e per la quale Pirlo non è mai riuscito a trovare una conformazione stabile. Allegri è un altro tipo di allenatore però i giocatori rimangono questi per cui vorrei fare con voi una review della rosa della Juve perché io credo che ci siano diverse cose da fare e possibilmente anche in tempi brevi. Ha potenziale la Juventus, la Juventus è una rosa che tecnicamente ha dato meno di quello che è il proprio valore nella scorsa stagione però ci sono nodi in tutti i reparti da sciogliere e non sono nodi così semplici. Partiamo dal discorso della difesa anche se poi insomma le situazioni principali sono individuate negli altri reparti però io voglio partire dalla difesa che è la base e che è sempre stata la struttura portante della della Juventus di Allegri, la Juventus plurivincitrice dei campionati due volte in finale di Champions League. È una nuova era completamente però la Juventus per organizzare questa nuova era difensiva negli anni scorsi aveva messo le mani a mio modo di vedere su tre prospetti molto molto efficaci. De Ligt, investimento molto corposo per prendere l'olandese dall'Ajax, De Miral e il QT Romero. Due di questi tre non ci sono più perché Romero non ha mai giocato una partita con la maglia della Juve, ha fatto una grande stagione all'Atalanta e Paratici se lo è ripreso al Tottenham e De Miral è finito proprio come difensore argentino a Bergamo per cui rimane solo De Ligt di quella che deve essere la difesa del futuro della Juve e la nuova BBC, tanto per intenderci. E a questo punto già nei centri della difesa secondo me qualche discorso da fare c'è perché De Ligt io credo che sarà sempre di più il punto fermo della difesa juventina. È un giocatore sul quale dubbino veramente pochi anche se deve ancora prendere quella continuità, deve fare una stagione ai limiti dell'impeccabile perché abbiamo visto anche all'europeo insomma un suo scivolone, un suo errore è costato fondamentalmente l'eliminazione all'Olanda, per onestà bisogna dire che nelle altre partite De Ligt aveva tenuto un livello considerevole per cui su De Ligt dubbino ne ho. La Juventus poi dietro ha la straordinaria coppia di gladiatori d'Europa, Bonucci e Chiellini che sono due leader, che sono due giocatori che rappresentano il trade union con il passato vincente della Juventus, che hanno dimostrato proprio al campionato europeo di essere ancora due difensori di primo ordine, ma perché lì c'è il discorso dell'età e giocare un europeo è una cosa diversa da giocare una stagione con campionato Champions League, Coppa Italia, Supercoppe e tutti gli impegni assortiti che chiameranno la Juventus a scendere in campo fondamentalmente ogni tre giorni. E Bonucci, al di là di qualche dissapore, di qualche increspatura con Allegri che in modo bonario con una battuta, ma comunque lo ha subito punzecchiato sul discorso della fascia di capitano, ecco sono due elementi che ti danno grandi garanzie, però non possono essere due pedine di progettualità. De Ligt, Bonucci, Chiellini e poi solo Rugani. Rugani che oltretutto credo sia un giocatore per il quale possono essere considerate offerte o destinazioni alternative. Quindi già nei centri della difesa la Juventus mi sembra un pochino corta e non so se in questo poco tempo a disposizione e comunque con delle operazioni che devono essere ragionate come per quasi chiunque a livello di budget ci sia in programma il fatto di inserire un difensore comunque di livello significativo. Per quanto riguarda i terzini il discorso non è molto diverso. Credo che la Juventus sia coperta a sinistra con Alexandro e con Pellegrini. Pellegrini è un giovane italiano che ha delle buone prospettive. Deve trovare il giusto assetto secondo me a livello temperamentale, a livello mentale. Deve trovare continuità soprattutto sul piano fisico perché l'anno scorso la sua stagione è stata sfortunata. Però è un giocatore che ha dei valori e Alexandro, se è il vero Alexandro, è uno dei migliori terzini sinistri che ci siano in giro. Il problema è che il vero Alexandro non lo vediamo da un po' sulla continuità di una stagione. Però lì mi sembra che ci sia il problema minore. A destra Danilo penso parta ancora come un elemento ai limiti dell'imprescindibile anche perché l'alternativa è De Sciglio. Però Danilo lo abbiamo visto impiegato anche in altre zone del campo e comunque io credo che, proprio sviluppando i ragionamenti su tutto l'arco della Rosa, Quadrado, anche per quelli che sono gli obiettivi internazionali della Juventus, debba essere considerato terzino, più che esterno d'attacco. Perché Quadrado è un laterale di difesa, un laterale a tutta fascia, se volete, da alte posizioni europee. Mentre se vuoi arrivare fra le prime quattro in Champions League, parlandoci chiaramente, hai bisogno di una qualità differente negli esterni offensivi, o meglio, hai bisogno di molta qualità e quindi qualità il più possibile in tutti i ruoli, in tutti i posti della squadra. Avere Quadrado sul terzino destro permette di giocare con più giocatori offensivi e di conseguenza più giocatori di qualità. Per cui io penso, spero anche e in qualche modo, che l'idea sia quella di utilizzare Quadrado come terzino, come regista laterale, come motore a tutta fascia, ma mettendogli davanti comunque un altro giocatore d'attacco. E dal proprio utilizzo Quadrado come collegamento per spostarmi ai discorsi sul settore offensivo della Juventus, che anche in questo caso è un reparto che ha dell'abbondanza, ma è un reparto dove devono essere definite tantissime cose e dove forse, anzi senza il forse, ci sono i due più grandi temi individuali della Rosa Juventina e non sono temi particolarmente agevoli, particolarmente semplici in questo momento. Sono i temi che riguardano ovviamente Cristiano Ronaldo e Paolo Di Bala. Parto da un'altra situazione per arrivare a CR7 e alla coscia argentina. La situazione di due ragazzi giovani, che però quest'anno devono essere lanciati stabilmente, definitivamente, perché è arrivato il loro momento. È vero, sono giovani, ma sono dei giovani di nome, dei giovani consacrati, uno addirittura campione d'Europa con pieni meriti personali e sono due giocatori che adesso devono avere lo spazio delle figure all'interno della squadra. Sono Chiesa e Kulusevski. Come impostare una Juve dove Chiesa e Kulusevski siano dei punti di riferimento? Questa è una bella domanda. È vero che sono due giocatori interpretabili in diversi modi, però tutto va sempre un po' poi a stridere con la presenza di Cristiano Ronaldo e di Di Bala. Perché? Perché si può pensare a Chiesa a destra e a Kulusevski in mezzo, come trequartista, come mezzala di fantasia, come centrocampista offensivo. Bene, è una situazione secondo me che può assolutamente funzionare. Però poi Di Bala dove lo metti? Allora si può pensare con Kulusevski come esterno destro d'attacco per rientrare sul piede invertito e Chiesa dall'altra parte, a sinistra. Io continuo a credere che Chiesa abbia nella fascia destra la sua collocazione naturale, però Chiesa a sinistra ci può stare benissimo. Lo abbiamo visto tante volte nella sua straordinaria stagione passata con la Juventus e anche in nazionale ha dimostrato di poter giocare da ambo le parti. Bene, Kulusevski a destra e Chiesa a sinistra. E Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo in questo momento credo che abbia una situazione anche psicologica un po' un po' febbrile, un po' nervosa. Nell'estate in cui ci sono stati grandissimi movimenti, Sergio Ramos dal Madrid al PSG, Messi dal Barcellona al PSG, Cristiano Ronaldo non è mai stato considerato per nessun tipo di super trasferimento e nel suo ultimo anno di contratto alla Juventus è Cristiano Ronaldo, è il capocannoniere della Serie A, è il goleador più efficace del mondo del calcio. Però io credo che queste siano situazioni, ha visto il protagonismo massimo arrivare su altri, all'Europeo, in Coppa America e sul mercato. E queste sono cose che psicologicamente CR7 sente e sente un po'. Al di là di questi discorsi, se Cristiano Ronaldo rimane alla Juventus e allo stato attuale delle cose, mi sembra quasi impossibile una destinazione alternativa nell'immediato, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo. Non può essere considerato un giocatore da turnazione, un giocatore il cui status viene messo in discussione. E questo porta a dover fare dei pensamenti e a dover trovare degli incastri che potrebbero portare in certe partite importanti a delle esclusioni che poi risultano complicate appunto nello sviluppo del progetto, ma anche nella gestione immediata di giocatori come Chiesa e Kulusevski che ripeto sono giovani ma devono assumere un ruolo da protagonisti in questa Juve. E poi c'è il discorso di Dybala. Si parla molto del suo contratto, c'è stata una riunione anche oggi, c'è da trovare una quadra, ma soprattutto c'è da trovare una quadra tecnica. Perché Dybala, dopo aver fatto la sua migliore stagione juventina due anni fa, ha fatto la sua peggiore in assoluto l'anno scorso. Problemi fisici, problemi di adattamento a un certo tipo di gioco. Però per me Dybala rimane, dal punto di vista tecnico, una risorsa gigantesca. Dybala è un grandissimo giocatore. Di conseguenza Dybala alla Juventus, se sta bene, è uno che non può fare la panchina, è un altro che non può giocare una partita sì, una no, o stare fuori in certi momenti. È uno che oltretutto ha bisogno di un certo tipo di status, di sentirsi importante. Dybala ha la sfortuna, diciamo, di giocare nel club con Cristiano Ronaldo e in nazionale con Messi, è un discorso che abbiamo fatto diverse volte. Io mi aspetto un Dybala anche affamato in questa stagione, di conseguenza un Dybala di primaria importanza della Juventus, però ancora. A parte l'incastro fra Dybala e Cristiano Ronaldo, che è assolutamente possibile, lo abbiamo visto con Sarri. Anche se poi c'è la questione che sono due giocatori che vogliono il pallone pesante in ogni azione, e volendolo tutti e due, ed essendo il pallone uno, è un po' complicato. Però Dybala e Cristiano Ronaldo, che devono secondo me giocare sempre a sistema con un centravanti, perché né l'uno né l'altro sono vere e proprie prime punte. Possono essere inseriti in un calcio che li utilizza come coppia d'attacco fondamentalmente, ma si perde qualcosa. E nel calcio che si gioca oggi, con i tempi di gioco che sono veramente la cosa che fa la differenza. Due giocatori come Dybala e Cristiano Ronaldo incidono enormemente sui tempi di gioco e hanno delle caratteristiche diverse rispetto a una punta che, con una squadra che con tempi di gioco sincronizzati, stabiliti, definiti e anche lasciati un po' la libera interpretazione, ma deve occupare l'area di rigore, perché l'occupazione dell'area di rigore è logicamente un obiettivo irrinunciabile per qualsiasi sviluppo tecnico di squadra. Quindi io credo che Dybala e Cristiano Ronaldo debbano essere pensati a sistema, con un centravanti, con un numero 9 che sia associativo, che partecipi al gioco, che lasci anche magari il passo certe volte alle superstar, ma che occupi l'area di rigore. E in questo senso Morata, che è stato confermato, ripreso in prestito dalla Juventus, è un attaccante che deve sempre un po' togliersi di dosso quella sorta di maledizione che lo colpisce in certi momenti. Anche l'Europeo l'abbiamo visto, ha fatto dei gol, però poi ha sbagliato delle situazioni, ha subito tante critiche. Io continuo ad essere dalla parte di Morata. Per me è un attaccante di livello. Per me è un giocatore che merita di essere il centravanti di una squadra di primissima fascia a livello non solo nazionale, ma anche internazionale. È un giocatore molto utile, è un giocatore bravo, è un giocatore che dà anche dei gol, però ha sempre un po' questo peso addosso. Ed è arrivato Caio Giorgio, che è un ragazzo che invece dovrà essere gestito, allenato, allevato, direi, nel migliore dei modi. Ma non pensiamo a un giocatore che arriva in Italia per essere protagonista fra due anni. Caio Giorgio è molto giovane, perché è un classe 2002, ma Caio Giorgio è un giocatore pronto per essere un giocatore. Certo, non il centravanti titolare della Juve, certo non quello che toglie il posto a Morata, Ronaldo, Di Bala, però io vorrei vederlo, dopo un fisiologico ambientamento, avere dei minuti, avere anche dei minuti importanti, perché penso che oltre a fare dei gol, Caio Giorgio sia un giocatore che è migliorato tantissimo nell'ultimo anno, proprio sul piano della partecipazione al gioco. Fisicamente si è formato molto bene, deve ancora sviluppare un pochino di massa, però ha il physique du rôle per essere l'attaccante di una squadra del genere. È un giocatore che è diventato quasi un falso nueve, più che un centravanti puro, grazie al lavoro soprattutto fatto da Cuca al Santos su di lui. È un attaccante che può essere punta centrale di un tridente, ma può essere anche attaccante da coppia. Per me sarebbe stato un acquisto perfetto per il Milan, Caio Giorgio, con Ibrahimovic e con Giroud, mettere una punta del genere sarebbe stato il completamento ideale per l'attacco rosso nero. L'ho preso la Juventus a cifre veramente golosissime e di conseguenza io credo che questo sia un giocatore che spero possa essere protagonista fin da subito, però chiudendo il discorso sull'attacco abbiamo parlato di cinque giocatori imprescindibili in quelle che devono essere le dinamiche stagionali. Chiesa, Kulusevski, Ronaldo, Dybala e Morata. Se ne giocano tre è già tanto e quindi c'è una gestione abbastanza complicata per questo settore che ha abbondanza, che ha risorse, ma che chiamerà Allegri anche a delle scelte che io ho l'impressione creeranno un po' di rumori all'interno dell'annata. E adesso arriviamo a quello che è il vero rebus della Juventus e lo è fondamentalmente da quando Allegri se n'è andato. Era il centrocampo e non credo che questo rebus sia stato causato dall'incapacità dei due allenatori Sarri e Pirlo di risolverlo, ma perché è effettivamente un enigma molto serio. Il centrocampo della Juventus va restaurato e va restaurato sensibilmente. Si parla in modo insistente di Locatelli. Se ne parla da tanto tempo, un'operazione che viene data quasi per scontata ma che non si conclude e il campionato inizia fra una decina di giorni. Locatelli, lo abbiamo visto anche quest'estate all'Europeo, oltre che nella sua immersione straordinaria con il Sassuolo di De Zerbi, è un giocatore da Juve, è un giocatore da top team. È un'operazione che ci sta perché la Juventus, dopo non essere riuscita ad andare negli anni sui migliori virgulti italiani di centrocampo, Verratti prima e Barella poi, Locatelli non se lo può far sfuggire. È un giocatore da Juve, assolutamente. Però Locatelli è un'altra mezzala. La sua natura dal punto di vista del ruolo, della collocazione tattica e dell'utilizzo migliore possibile da farne l'abbiamo capita quest'estate con Mancini. È una mezzala di costruzione, è una mezzala di movimento, è una mezzala di inserimento. Quindi è una mezzala come Rabiot, come Bentancur, che credo sarà un grande beneficiato dal ritorno di Allegri, come Artur che è infortunato, ma io non mi rassegno a pensare ad Artur come un flop assoluto che non possa in nessun modo essere utile a questa squadra. Deve stare bene e non sta bene da un po', ma Artur se sta bene è un giocatore di ottimo livello, è una mezzala anche McKennie, è una mezzala volendo anche Bernardeschi, visto come è stato provato nel gamper dove la Juventus ha perso 3-0 con il Barcellona, ho sentito dire anche buona prestazione, sì è vero la Juventus ha costruito, ha avuto delle occasioni, Neto è stato bravo, ma il Barcellona aveva una difesa completamente sciolta e il Barcellona ha segnato 3 gol di cui uno in apertura di partita e potevano forse essere di più, per cui questa prestazione buonissima non l'ho vista fino in fondo. Quindi Locatelli benissimo per il centrocampo della Juve, però la sua collocazione naturale è anche in questo caso sull'intermedio. Locatelli può fare il regista, può fare il Vercevasse come potrebbe farlo Bentancur, come potrebbe farlo Artur, bene, sarebbero tutte soluzioni un po' accrocchiate, un po' di ripiego e non penso che il restyling del centrocampo della Juventus possa basarsi su una soluzione accrocchiata, come vi dicevo, per cui la Juventus serve il regista, anche perché l'esperimento a Ramsey mi sembra un po' forzato, Allegri fa bene, fa bene assolutamente a sperimentare, a provare queste vie, a vedere come ha detto lui se ha ragione su certe idee, magari anche un po' strane, ma Ramsey è un'altra mezzala, al limite un trequartista, è un giocatore che però da tanto tempo non è il giocatore che ci si è sempre aspettati e che si è visto qualche volta con la maglia dell'Arsenal, sicuramente non è un regista. Danilo è stata una bella idea brillante di Pirla, un giocatore talmente intelligente che può stare anche lì, però serve un regista alla Juventus, e il nome è quello di Pjanic, Pjanic che tornerebbe dopo il flop colossale di Barcellona, Barcellona non hanno interesse a tenere Pjanic, anzi, come ben sapete, ne abbiamo parlato nel video dell'addio di Messi, il Barcellona vende tutto quello che può vendere, anche qua, è un'operazione secondo me non immediata da incanalare, anche per il giro formale che è stato fatto nello scambio fra Pjanic e Artur. Il campionato ribadisco inizia fra dieci giorni, e Pjanic oltretutto negli ultimi due anni, l'anno scorso a Barcellona praticamente non ha mai giocato, e l'anno prima con Sarri lo si attendeva come forse il primo protagonista no, perché c'era Cristiano Ronaldo, ma il secondo protagonista principale della Juventus, e non è stata una stagione del genere per Milan e Pjanic, che avrebbe bisogno anche un pochino di rispolverarsi per essere un leader tecnico e un leader continuo. Quindi, io credo che dei movimenti siano da fare, soprattutto nel reparto difensivo e in quello di centrocampo. La Juventus deve quasi prendere Locatelli, ma deve prendere ancora qualcosa. C'è anche il baby Fagioli. Fagioli è un ragazzo che, per qualche l'ho visto, mi ha dato sensazioni molto interessanti. Mi piacerebbe parecchio che avesse anche lui dello spazio, che avesse delle partite, che avesse delle chance per cominciare ad assaporare l'aria del grande calcio, però, insomma, anche lì, che la Juventus punti stabilmente su Fagioli, mi sembrerebbe qualcosa di un filino azzardato. Io credo che, per sintetizzare il tutto e chiudere il discorso sulla Juve, il ritorno di Allegri sia molto importante e porterà dei benefici, perché questa è una squadra che adesso ha bisogno di un gestore come Massimiliano Allegri, di un allenatore esperto, di un allenatore astuto e di uno che sa trarre il massimo dalla squadra a disposizione. Però, al stesso tempo, la Juventus ha bisogno di giocatori, ha bisogno di restaurarla, questa rosa, e Allegri sappiamo bene quanto conti sulla presenza di giocatori funzionali, giocatori che, se messi nelle giuste condizioni, ti fanno vincere le partite. Io credo che la Juve del materiale ce l'abbia, perché poi, ripeto, anche elementi che magari non hanno dato il meglio vanno esplorati e possono dare di più. La Juve ha una rosa assolutamente di livello, però la Juve è una rosa che deve essere armonizzata in qualche modo. E, per tutto il discorso che abbiamo fatto, mi sembra che a dieci giorni dall'inizio del campionato ci siano appunto delle potenzialità, ma ci siano anche delle decisioni da prendere, dei punti di domanda a cui rispondere e degli enigmi da svelare, che fanno sì che, insomma, il lavoro per Max Allegri, che tra l'altro oggi compie gli anni e gli faccio i miei più sentiti, più cari auguri, insomma, il lavoro per Max Allegri sarà un lavoro molto imponente. Vedremo, vedremo, anche perché la Juve inizia il suo campionato contro l'Udinese. Ci sarà l'amichevole con l'Atalanta di sabato, che secondo me ci dirà e ci farà vedere delle cose, spero migliori rispetto a quelle che ho visto contro il Barcellona. Ribadisco, non sto dicendo che la Juve si abbia una stagione di grandi dolori e di risultati mesti, perché la Juve il potenziale ce l'ha, Ronaldo, Dybala e tutti gli altri. La Juve forse rimane la squadra con la rosa più forte, tolgo anche forse, nella nostra Serie A, però poi abbiamo visto quali sono state le difficoltà delle ultime due stagioni e delle difficoltà secondo me permangono, con poco tempo a disposizione per risolvere, perché poi quando si comincia a giocare, si comincia a giocare, tutti i punti sono importanti. Bene, abbiamo parlato dell'Inter stamattina, oggi pomeriggio della Juventus, domani sicuramente vi voglio fare il punto sulla Supercoppa, perché non vedo l'ora di vedere la partita fra Chelsea e Villarreal, voglio parlarvi nei prossimi giorni anche delle altre, big della Serie A, il Milan, il Napoli, le due romane con i nuovi progetti di Mourinho e di Sarri, la stessa Atalanta che cambia pelle, ma non la cambierà fino in fondo, di quelle che possono essere le surprise, insomma, tanti temi dal calcio italiano, dal calcio internazionale, sempre qui insieme, sul nostro canale, dove vi aspetto prestissimo.